Poi c'è una serie di riferimenti biografici, di link, eccetera. Però uno è questo, il governo australiano, diciamo in generale la cultura australiana ha lavorato molto su... loro sentono molto il problema, la questione di integrare audience di tipo diverso rispetto all'origine culturale delle persone, quindi legate all'etnia, alle culture. Infatti i musei australiani sono quelli che appunto per chi legge la letteratura, per chi ha il piacere di leggere la letteratura, sono molto attivi anche sul piano della ricerca. Sono stati primi a fare una grandissima mostra che fu una vera pietra migliare sugli aborigeni, che per rappresentare la cultura aborigena ha coinvolto la comunità e che ha fatto scuola, è stata una delle prime. Questo è un report piuttosto interessante in cui c'è anche spiegato nel dettaglio il caso dello Zuitplein e di altre realtà in giro per il mondo che hanno lavorato sull'integrazione e la rappresentazione di comunità diverse all'interno della propria produzione culturale e comunicazione. Quindi c'è una serie di casi interessanti. Di materiale ce n'è tantissimo, tenete conto che qualunque cosa vogliate approfondire ce n'è. Un'altra cosa che vi lascio c'è l'audience building final report che è stato prodotto l'anno scorso per questa conferenza su audience development che è stata fatta a Bruxelles, che in qualche modo faceva il punto rispetto alle esperienze che erano state fatte sinora, mostrandone le debolezze e parlando anche di una serie di casi, sempre interessanti comunque da leggere. Ci sono degli atti di questa conferenza? Non lo so se ci sono degli atti adesso. In realtà poi le situazioni presentate molto ci sono in questo che è stato prodotto per arrivare alla conferenza, quindi che in qualche modo fa il punto. Anche perché questo sino ad oggi non è stato un tema centrale, cioè se ne sono occupati diversi, quelli che si occupavano di apprendimento, quindi quelli che si occupavano di intercultura, e che è stato soprattutto finanziato nell'ambito di progetti Grundwig, quindi progetti di apprendimento, cioè legati all'apprendimento, allo scambio di apprendimenti tra operatori. e quindi in qualche modo lo trovate più su quello. Adesso mentre vado avanti con la presentazione come al solito per arrivare alla pagina giusta, visto che non trovo altro modo, vi dico solo due parole su quello che per esempio è successo nelle biblioteche, un'altra delle grandi, non so come sia il sistema bibliotecario, so che è un po' più fragile in generale al sud rispetto a quanto è stato fatto a Nord Italia, ma in generale si tratta di un sistema molto in difficoltà in questo momento, più in difficoltà di altri, che però ha avuto sempre il privilegio di essere di fatto, cioè il privilegio, la posizione, di essere al centro dei servizi della comunità, e quindi per intere aree spesso l'unico presidio culturale del territorio come riferimento. In questo caso si tratta di... le biblioteche che hanno lavorato molto su analisi in funzione dello sviluppo di servizi nuovi, per audience nuove, sono soprattutto... un caso di studio molto interessante è quello di Sala Borsa, che è una biblioteca di Bologna, splendida peraltro, che ha sviluppato dei servizi e delle attività in funzione del fatto che ha tantissimi utenti stranieri. Quindi, per dire, analisi, interviste, questionari, eccetera, hanno portato a fare delle cose che prima neanche si immaginavano. Per esempio, a capire che le comunità avevano un grosso problema con la lingua madre, perché si tendeva a perdere, quindi la preoccupazione di mantenere quella cultura era una preoccupazione viva, e allora hanno incentivato sia nell'acquisto di libri per l'infanzia in diverse lingue, sia nell'individuazione di soggetti che potessero fare letture in quelle lingue, mamme volontarie che leggono in arabo per bambini, per i figli loro e di altre donne, e che quindi in qualche modo permettono, questo di pari passo con il sistema educativo, che è arrivato a capire anche proprio in pedagogia, che per esempio è impossibile imparare bene l'italiano se non sai bene la tua lingua d'origine, che l'apprendimento della lingua madre è fondamentale per imparare una seconda lingua, e che quindi tutti quelli che quando arrivano tendono a parlare i loro figli solo in italiano, creano un grosso problema ai bambini stessi, perché hanno un problema identitario che in qualche modo è legato al mantenimento di una cultura precedente, ma non è solo questo il punto, è che se tu parli male la tua lingua madre, parli male anche l'italiano, lo parlerai male sempre, e questo in qualche modo è arrivato da altre parti, diciamo nella ricerca pedagogica, a un po' la stessa conclusione, c'è la necessità di sviluppare competenze nella lingua madre, in questo modo ovviamente più bambini, più donne vanno lì perché sanno che lì si può leggere nella loro lingua, piuttosto che hanno creato tutta una sezione con i computer, con le tastiere in cinese, con gli ideogrammi, per permettere l'utilizzo da parte di persone con altri alfabeti dei servizi della biblioteca. Altri casi, una biblioteca che è completamente rinnovata, che è un altro grande caso di studio in questo senso, che ha fatto un lavoro molto grosso sulla comunità, anche con un utilizzo intensivo di volontari, è la biblioteca di San Giorgio a Pistoia, che è un'altra biblioteca che è andata sul sito, vedete come lavorano, cosa fanno, ha sviluppato una quantità di servizi che assomigliano molto di più a un centro culturale, che è una biblioteca così come ce la immaginiamo, diventando di fatto un presidio culturale importantissimo per la città, in cui si sviluppano temi sulle quali le persone sono chiamate a dire di cosa ti piacerebbe sapere di più, cosa ti piacerebbe fare, sviluppando attività in funzione di target più deboli, più scoperti o che avevano un'offerta culturale meno ricca. Il privilegio, diciamo, di avere un centro culturale che non parte da una collezione, è di poter prescindere da quella collezione e sviluppare anche linee di attività estremamente diversificate in funzione di far bisogno del territorio e non dovendo fare i conti con un patrimonio in qualche modo da mediare, o facendolo ma in qualche modo diventando un luogo neutro rispetto a uno per esempio dei problemi di luoghi di questo genere, non so, tipico, qui in Puglia frequente, recupero di uno spazio, ci si inseriscono dei ragazzi che devono fare delle cose per animare quel territorio e capire poi come quello spazio viene utilizzato e da chi, che è una roba non proprio del tutto banale. E qui ci viene in aiuto l'analisi, come sempre, come strumento per capire e orientare le nostre scelte rispetto allo sviluppo di servizi e prodotti. Questa è un po' la sintesi di quello che vi dicevo ieri, che mi ero accorta di non avervela messa come slide e ve l'ho inserita, che in qualche modo distingue tra metodi e strumenti. Quello che vediamo adesso è il questionario, per capire un po' quali sono le caratteristiche tecniche dello strumento e come utilizzarlo. Imparatevele bene perché poi questo pomeriggio dovete farci un'esercitazione, quindi sarà quello che vi serve. Vabbè, non sto a leggere la slide. Quello che fa rispetto ad altri strumenti è di utilizzare un insieme predeterminato di domande. Le risposte possono essere chiuse o aperte, quindi non è detto che ci sia, però che le domande siano uguali per tutti, confrontabili. E' un po' qualitativi, perché l'intervizzazione di una risposta aperta è un metodo qualitativo, eh? Sì. Però esistono metodi di standardizzazione a posteriori, attraverso l'analisi semantica, delle domande aperte. Sono più difficili da analizzare, comportano un intervento più sensibile da parte del ricercatore, però si può assolutamente fare. Sì, si può assolutamente fare. L'analisi di un guestbook, per esempio, che è una cosa in cui i commenti sono assolutamente liberi, quello che puoi distinguere è in una matrice, ad esempio, la frequenza dei commenti positivi, negativi, molto frequenti, poco frequenti, e su che cosa? Un'altra cosa che puoi fare è quando si fanno le domande aperte, cioè noi per esempio, l'ultimo lavoro sulla Galleria dell'Accademia a Venezia, 156 interviste vis-à-vis, praticamente tutte le domande aperte. Alcune cose chiedevo una scala di valore, di dare un valore attribuito dalle persone a un certo tipo di informazioni. Ma i nonologhi erano predeterminati? In quel caso sì, però poi si lasciano i campi aperti, in cui chiedevo cosa ha capito di quello che ha visto. Un domandone da 100 milioni di dollari. Beh, innanzitutto io sapevo cosa dovevano aver visto. Dovevano aver visto un ciclo pittonico, fatto su Teleri, nel 1500, che parlava di una storia da un certo pittore. Queste erano perlomeno le variabili base. È chiaro che devi averci le presenti prima. Se uno mi dice, non ho capito che era una storia, mi chiede qualcosa del pittore, perché non ce l'ha scritto nessuna parte, chi era, cos'era. Mi chiede cosa ci faceva quella cosa lì, cosa ci faceva quella cosa là, perché c'era una mezzaluna con la stella, se era una cosa, perché si parla quindi di un mondo turco, otto mano, quando è una roba che è una storia che riguarda i primi cristiani. Cosa c'entra Colonia? Cioè, se mi fanno queste domande, io so che cosa non hanno capito, ovviamente. Le categorizzo e poi guardo a posteriori quali sono le tipologie di domande che ricorrono di più, a quali tipo di informazioni le persone danno più valore, e quasi sempre erano relative alla storia narrata. Perché in assenza di competenze tecniche per la comprensione delle qualità stilistiche e artistiche del dipinto, quello che tutti indifferenziatamente capiscono o non capiscono è di cosa sta parlando il dipinto, tanto più che quella è una storia. E allora questa mi dà un'indicazione preziosa che io posso relativamente standardizzare, perché uno magari mi dice, non ho capito perché stava a Colonia, non ho capito perché si sposava il principe, non ho capito perché stava quello, non ho capito perché stava quell'altro, ma mi stai sempre parlando della storia. Allora, dico che le domande a cui bisogna rispondere alle persone, per prima cosa, per poterle agganciare, è raccontargli quella storia. Sant'Orso la visse nel IV secolo, era una prima dei primi cristiani, poi è andata a sposarsi là, poi è andata la papà là, il massacro è barababà, cioè questa è la storia. Ovviamente loro mi hanno detto tutte cose diverse, sono io che a posteriori ho capito che le domande che mi facevano erano o relativa all'autore, o relativa al contesto storico in cui è stato prodotto il dipinto, o relativa al contesto storico della storia narrata che risaliva mille anni prima, o relativo all'iconografia, per esempio, per cui certe forme di rappresentazione proprio non si sapeva, o relativo alla tecnica, come facevano a dipingere grandi cose così, cos'è un telero, cioè un telero per Venezia è fondamentale, capito? Cioè non puoi non dire a un visitatore cos'è quella roba lì, perché a Venezia che c'era l'umidità, invece di dipingere gli affreschi, facevano i teleri così, li spostavano e stavano staccati dal muro. Cioè questa roba qua è una roba molto semplice da spiegare, nessuno te la dice, capito? Quindi quando vedi i tipi di domande, alla fine le riconduci a delle categorie, è un'operazione soggettiva, la fa il ricercatore, chiaro. Però la puoi categorizzare e quindi puoi rendere standard per poter essere confrontata e essere anche rappresentata in termini statistici e quantitativi. Cioè l'80% delle persone vuole sapere di più della storia di Sant'Orsolo. Poi nel tipo di restituzione invece è molto interessante anche usare le frasi delle persone, così come nei focus group, anche in questi casi, nel momento in cui, ma chi era Sant'Orsolo, ma cos'era un telero, ma cos'è una scuola, cosa ci insegnavano, la scuola di Sant'Orsolo è un'altra cosa, perché le scuole nel Cinquecento a Venezia erano dei luoghi deputati, quindi questa roba qui è una roba che puoi restituire sicuramente in termini numerici dopo che ci hai fatto un lavoro in più, che quindi comporta che quando usi domande aperte il lavoro di analisi è più faticoso. Però è anche estremamente più ricco. Devi mettere le persone in condizione di risponderti, e quindi questa è una delle cose più importanti che poi vedremo. Allora, i passi necessari in generale a una rilevazione di questo genere sono definire la popolazione di riferimento e poi l'unità di analisi. La popolazione di riferimento è il vostro universo, cioè tutti i miei visitatori, tutti i visitatori che entrano in quella stanza lì, tutte le famiglie che passano dal centro visitatori, tutti quelli che vanno sul mio sito internet. Cioè, a seconda dell'universo di riferimento, voi, quindi della popolazione di riferimento, si capisce qual è il campione. E' importante anche capire e saper restituire che quel campione di cui state parlando è riferito a quella popolazione e non ad un'altra. Se fate una web survey, state parlando ai vostri utenti virtuali e quindi non state parlando dei vostri visitatori, state parlando dei vostri visitatori, e non è neanche detto, che frequentano il vostro sito. Quindi nel momento in cui poi si generalizzano quelle informazioni bisogna avere come minimo questa, chiara questa cosa. La scelta del campione, attraverso un piano di campionamento, che significa quanto deve essere grande, quando raccolgo i dati, come somministro il questionario. Poi bisogna costruire il questionario sulla base degli obiettivi conoscitivi che abbiamo e sempre testarlo. Cioè, i primi dieci, i primi venti, la prima giornata può anche darsi che poi si debba buttare via. Non far partire un piano di campionamento che richiede dieci giorni di rilevazione sparsi chissà quando e arrivare alla fine per capire che c'era una domanda posta male, che non si capiva, che era confusa, che non vi diceva quello che doveva dirvi, eccetera. Poi c'è la raccolta dati vera e propria, quindi la parte di costruzione del dato. Poi c'è la parte di pulitura e di inserimento dei dati. Sono un database informatico che può anche essere banalmente un Excel, per i numeri che abbiamo noi è gestibile anche in questi termini. Se poi qualcuno invece ha competenze statistiche, meglio usa un bel software di statistica, ce n'è anche di Open, un MyStat, un Sistat, un qualcosa del genere e usa quelli. Diciamo, per le funzioni base è anche sufficiente un Excel, cioè non c'è bisogno di avere chissà quali competenze. Un minimo di accortezza, un po' più di attenzione, perché Excel è pericoloso, con le formulette nelle celle, però insomma quel minimo. Dopo l'analisi e l'interpretazione e dopo la scrittura del report. Questi ultimi due pezzi non li fa mai nessuno. E questa è la cosa più grave di tutte. Perché quando poi tu bene hai raccolto i dati, hai avuto tutto quello sforzo lì, non serve a niente perché non va agli atti, non resta, se finisci sotto un tram, quello dopo di te non lo leggerà mai, quello che fa la mostra l'anno dopo non lo sa perché tu non c'eri, eccetera, eccetera. In un'indagine che abbiamo fatto qualche tempo fa con la regione Lombardia sui servizi educativi dei musei, gli abbiamo chiesto quanto e come valutavano e abbiamo scoperto che l'80% di loro aveva fatto negli ultimi due anni un'indagine sul pubblico, una qualche valutazione su quello che avevano fatto. Però solo il 20%, tipo la metà aveva addirittura scritto una specie di report, aveva analizzato i dati, li avevano usati solo il 20%. Comunque c'è una quantità di lavoro totalmente sprecato, cioè proprio braccia rubata dall'agricoltura perché potevano stare a casa a fare l'orto invece di raccogliere i dati facevano uguale. Ora, la prima questione è la popolazione di riferimento. cioè quindi come costruire il campione che è quel pezzettino lì, perché sia rappresentativo. Allora, si usano campioni probabilistici, cioè si chiamano campioni probabilistici quelli in cui ogni soggetto della nostra popolazione di riferimento ha le stesse probabilità, area 1, di essere selezionato, di essere incluso nel campione. Si usano sempre quelli, è il non probabilistico, non tenetelo neanche in... Allora, specificare la popolazione obiettivo è l'altra cosa. Ad esempio, tutti quelli che usano la mia caffetteria e vengono a bersi le birre qua, che io voglio sapere se sono anche persone che poi stanno ai concerti che organizzo la sera, ai corsi di formazione che faccio al pomeriggio, quelli che mi comprano i miei pacchetti turistici, qualunque cosa. Però questa cosa della specificazione della popolazione è fondamentale, anche perché tu così capisci quando devi andargli a pescare. Se vuoi un campione rappresentativo di tutti i tuoi visitatori, devi guardarti i flussi di visite durante l'anno e quindi mai concentrare in un unico periodo e prenderne un po' d'estate, che sai che c'hai turisti, un po' in autunno che sai che c'hai gli altri, un po' in primavera che sai che c'hai le scuole, in modo che siano in qualche modo distribuiti. Idem non tutto il fine settimana, non tutti in settimana, cioè in qualche modo per essere sicuro di non rappresentare solo un pezzo, se nei tuoi flussi di visitatori o di partecipanti hai delle concentrazioni particolari, per la qualcosa devi avere perlomeno idea di come sono distribuiti. E' un'attività stabile? Eh, mica è percentuale, qua c'è un calcolo, vi faccio vedere la formula poi, è roba da spaventare. No, 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 ma infatti la formula, prendetela come me, un atto di fede, però poi vi do un link bellissimo che abbiamo trovato tempo fa e che ci è molto utile, in cui voi cliccate, ci inserite la vostra popolazione di riferimento, l'intervallo di confidenza che poi vi spiego che cos'è, e lui vi dice quanti questionari dovete raccogliere per essere rappresentativi di quella totalità. Sì. Ti rifillo il questionario, per dire, in modo da essere distribuito. Quindi fare uno spettatore sì e uno no, ogni capofila della fila dei spettatori del concerto gli do il questionario. La stessa roba che è un sistema, perché in questo modo il campionamento lo fai tu e riduci in parte il fenomeno che già esiste, cioè il fatto che hanno propensione a risponderti sempre più o meno gli stessi, e che quelli che non ti vogliono rispondere, che sono quelli o molto contenti o molto scontenti. e per cui se lascio il questionario all'ingresso e dici solo raccoglietelo pure, già un po'. Se invece viene dato in biglietteria dalla persona che te lo dà ogni cinque, le probabilità di pescare sono più. Questo è il campionamento sistematico nella logistica di somministrazione. Per vedere, in questo caso abbiamo tre diversi intervalli temporali. Abbiamo preso quelli invernali, quelli primaverili e quelli estivi. Li distribuisci sulle settimane, sai che i giorni sono quelli lì, in qualche modo ti garantisci di distribuirli tra il weekend e la settimana in un piano di campionamento, ad esempio fai, non so, noi adesso ne abbiamo fatto uno su una valutazione di impatto economico del Salone del Libro di Torino, che è un lavoro che avevamo già fatto nel 2009, adesso rifatto, per tirar su duemila questionari, a un sproposito, tantissimi, però lì il livello di ricostruzione era abbastanza complessa, perché devi chiedere alla gente quanto hanno speso, da dove vengono, quanto sono stati, quanto hanno comprato, se hanno usato l'autobus, se hanno dormito in bed and breakfast e un'infinità di altre cose. Però in questo caso noi andavamo tutti i dieci giorni di Salone, però ovviamente il piano di campionamento prevedeva che nei giorni feriali, dove ci sono soprattutto scuole, e quelli che si chiamano professionali ce ne erano meno. Nel weekend, dove l'affluenza è infinitamente più alta, raccoglievamo un numero superiore di questionari per rappresentare. Sì, sì, no, adesso ve lo faccio vedere tecnicamente come si fa. Quindi con un numero di questionari target per ogni fase, in modo che siano sufficientemente rappresentativi su del flusso complessivo. Allora, questa è la dimensione del campione, cioè a quanto voglio arrivare, qual è il mio target. Allora, la dimensione del campione dipende da alcuni fattori, niente affatto lineari, evidenti. Il primo è il livello di confidenza e il margine di errore che si vuole sopportare. Il livello di confidenza è una brutta traduzione del confidence inglese, che però si usa così. che ci dice, ad esempio, di solito si usa per tutte le statistiche, ma inclusi per gli studi clinici, per darvi l'idea del livello che poi decidono di intere campagne di vaccinazione su continenti, quindi un grado di affidabilità molto elevato, è un intervallo di confidenza del 95%, che dice che tu hai il 95% delle probabilità di dire una cosa esatta. Ok? Un campione rappresentativo, ben costruito, ti dice che al 95% quella cosa è vera. Questo è moltissimo e quindi va bene così. È quello che viene usato a livelli anche appunto per assumere decisioni di tipo strategico estremamente importanti che riguardano milioni di persone, quindi va più che bene anche per il nostro profilo del pubblico e la sua soddisfazione. Un'altra caratteristica è la varianza nel carattere della popolazione che si studia, cioè devo tenere conto del fatto che io mediamente sono scolaresche o del fatto che ho mediamente solo turisti o del fatto che io ho tante tipologie diverse di pubblico a seconda del periodo dell'anno, delle modalità. Allora la varianza è tale che mi suggerisce di aumentare un po' questo numero perché mi può convenire averne di più perché rischio di sottorappresentare perché c'è molta variabilità interna tra i comportamenti e i profili delle persone che mi frequentano, che sono persone di tipologie molto diverse. E poi ultimo la numerosità della popolazione che in realtà conta molto poco contrariamente a quello che intuitivamente si potrebbe pensare. Questa non so, l'ho copiata, mi piaceva, però ecco è per darvi l'idea, no? Non alla portata degli esseri umani normali, cioè solo se hai fatto ingegneria o matematica o quelle robe lì. No, ma guarda anche per un sociologo è un problema perché devi fare l'esame di statistica però sono un problema. in realtà abbiamo questo splendido link che vediamo se funziona. No, aspetta. Tipo, di che popolazione ci immaginiamo sempre che funzioni? Voi avete un'idea dei complessivi utenti di un qualche vostro servizio? Monitorate gli ingressi? Chi ce li ha? Ditemi un numero. No, me lo puoi dire così. No, non lo puoi dire così. Ah. questo è il link che c'è lì. Oh. Livello di confidenza 95. Al 99 veramente non esiste, cioè niente viene fatto al 99 credo. Intervallo di confidenza. Ecco, questo è un altro bel concetto sempre mal tradotto. l'intervallo di confidenza ci dice che poniamo se il 20% dei nostri visitatori ci dice di aver saputo della nostra iniziativa dal passaparola l'intervallo di confidenza 4 che è assolutamente accettabile nel visitor study si usa ampiamente ti dice che potrebbero essere il 16 come il 24% cioè un numero che sta tra il 16 e il 24% ha avuto questa informazione dal passaparola. Ok? Questo significa che ad esempio di numerosità universo che numero di visitatori avete? 11.000? 569 questionari non solo ma se io gli dico diventano meno se diminuisce il numero cioè se abbassiamo le confidenze si esale il numero certo però se io dico 30.000? 3 volte tanto praticamente uguale quindi questo per dirvi quanto poco è direttamente correlato alla numerosità della popolazione di riferimento cosa vi stavo dicendo? Sì ecco questa cosa dell'intervallo ci serve perché se i nostri questionari ci dicono che abbiamo il 20% dice che l'ha saputo così il 22% dice che l'ha saputo cosa ha su questo dato nel momento in cui noi interpretiamo non ci possiamo fondare chissà quale strategia di marketing perché potrebbero anche essere tutte e due 22 uno 26 e l'altro 18 o inversi addirittura uno più dell'altro quello che sembra meno potrebbe essere di più quindi ti dice di stare attento nel momento in cui analizzi a non tenere troppo in considerazione questo fatto cioè a tenerlo nella giusta considerazione che ha esattamente questo indice qua 4 è più che accettabile anche 4 e mezzo se è venuto a sapere dei giornali che numero è no è uguale nel senso qualunque domanda tu gli abbia fatto la sua risposta il peso che tu dai alla sua risposta non deve essere eccessivo nel senso che se stai dicendo che l'80% ha avuto il passaparola e il 20% l'ha saputo dai giornali ok la stragrande maggioranza delle persone l'ha saputo dal passaparola ma quando ti danno due risultati molto vicini non puoi stressare l'interpretazione dicendo che quel 22% è più del 20% perché per quello che ne sai sai che c'è un intervallo di confidenza che fa sì che quello che tu dici possa non avere significatività in questo caso adesso facevo l'esempio della comunicazione per dire ma anche maschi femmine come al solito che non si capisce bene perché tutti lo chiedono ma poi chi se ne frega no? è una di quelle cose di cui noi abbiamo sempre bisogno lo facciamo di default ma poi ci cambia poco la frequenza femminile è più elevata forse per quello sì in realtà la frequenza femminile non è solo più elevata ma è la protezione delle donne risponde alle domande è più elevata tra cui francamente esatto quindi piuttosto che lo vedi quando l'intervisti e ti intervisti la coppia becchi l'uomo perché io ho bisogno per arrivare o io voglio una roba rappresentativa di maschi femmine per età e tutto quanto agganciavo il maschio e lui diceva risponde lei quindi sai alla fine c'è anche un po' questo che la propensione a rispondere delle femmine è più alta e quindi comunque tu l'informazione che hai è un'informazione un po' è un po' femminilizzata diciamo questa cosa vi dice anche a posteriori se voi avete raccolto 400 questionari ti dice quanto sono affidabili quindi puoi farlo anche al contrario esatto questo è un bello strumentino vero? questo io lo adoro perché quando l'abbiamo scoperto ogni volta spero che non cambino il link vuoi che non lo ritrovi però se c'è perché effettivamente è uno strumento così che in mano a tutti è molto evidente che semplifica di molto un processo che diversamente sarebbe veramente sopra specialisti tenete sempre conto del fatto che invece la variabilità interna cioè la varianza della vostra popolazione di riferimento è una cosa che sapete solo voi quindi quanto stressare su questo numero quanto cercare di gonfiarlo potete stare tranquilli tenerselo abbastanza basso ok allora formulare le domande una serie di caratteristiche allora evitare le domande doppie che sono un grande classico poi vediamo un po' di esempi c'è una domanda in cui c'è dentro un e o non va bene evitare le domande ambiguo e imprecise tipicamente il gergo come valuta l'accessibilità perché per uno che non lavora in quel campo lì l'accessibilità è una roba a cui l'hanno stressato a Iosa sta negli standard nazionali e bla 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 però accessibilità per una persona non vuol dire niente cioè vuol dire ci arrivo in macchina vuol dire parcheggio vuol dire non ci sono le scale posso salire anche con una carrozzina cosa vuol dire cioè vuol dire che il prezzo era accessibile la cosa più difficile è evitare di esercitare influenza sulle risposte questo perché più o meno in cattiva fede avviene quotidianamente non so se vi è mai capitato tempo fa con la precedente amministrazione di Milano io ho ricevuto a casa un questionario in cui mi chiedevano delle opinioni sulle politiche rispetto al verde urbano che a Milano è come dire cioè parlare della luna e mi chiede e l'incipitera l'amministrazione comunale ha ampliato con 180.000 ettari di terreno verde di verde urbano arbusti erba e pinco pallo ovviamente questa cosa io da cittadina lo so che è dovuto alla somma degli sparti traffico perché hanno calcolato superficie degli sparti traffico degli isolotti delle piazze delle cose però mi dicono abbiamo fatto tutta questa cosa qua e già mi sta influenzando e poi dici rispetto al numero di abbiamo piantato 180.000 alberi rispetto a questa cosa benissimo continuate così potreste fare meglio no e sono incazzata nera come risposta non c'è cioè non avete fatto niente cioè non mi hai chiesto niente mi hai detto solo se sono contentissima o solo un po' contenta io lì non mi posso esprimere altro che allora questo era un caso palese di mala fede però in moltissimi casi uno senza saperlo esercita un'influenza su le risposte nel modo stesso in cui formula le domande e bisogna stare molto attenti nel momento in cui lo si fa guardarli con occhio critico rileggerli farli compilare ad altri farli vedere a chi non siamo noi e che possa in qualche modo darci uno sguardo diverso e fare riferimento a temi concreti e specifici cioè quando parlo come in una customer satisfaction chiedermi in generale se sono contento di qualcosa non vuol dire niente perché non distingui per esempio la qualità tecnica dalla qualità quindi dal funzionale dalla qualità funzionale di processo con la tecnica di prodotto per cui io posso essere molto soddisfatto del concerto che ho visto però magari ho aspettato due ore per trovare un parcheggio e questa cosa mi ha cambiato parecchio la percezione della serata piuttosto che ci ho messo due ore di coda per uscire dopo dal parcheggio o ho trovato i bagni sporchi o non ho trovato dove cambiare mio figlio o qualunque altra cosa che possa aver cambiato la mia percezione complessiva dell'esperienza e se tu chiedi solo se uno è contento o no non saprai mai di che cosa è contento e anche quando fai domande fare domande che abbiano a che vedere con una cosa che ha a che vedere con l'esperienza cioè la questione centrale è sempre chiedere alle persone quello di cui hanno competenza quindi se uno è un visitatore lui sa cos'è visitare questo museo l'esperienza della visita nella sua complessità chiedergli di valutare aspetti teorici ampli eccetera è una cosa che quasi sempre ti dà dei risultati che non cosa pensi dell'educazione ambientale cioè cosa ne so che domanda è ed evitare le domande imbarazzanti o compromettenti che significa anche formulare bene cioè quanti libri hai letto nell'ultimo anno è un modo di dire che ah devi aver letto dei libri e eh esatto e se non ne ha letto nessuno esatto lui si sente in dovere di dirti che l'ha fatto capito perché fa brutto si aspetta che tu desideri c'è un problema di desiderabilità sociale per cui lui un po' tende a rispondere a quello che spera che tu gli senta dire non so quello che dice ok lui vorrà da me questo glielo do ha il tempo di leggere prima domanda ah esatto hai trovato il tempo di leggere quest'anno sì no cioè negli ultimi 12 mesi legittima il fatto che non possa non aver trovato il tempo di farlo non aver voluto farlo e nessuno come risposta serve perché devi legittimare a comportamenti negativi o passivi perché tutti hanno cittadinanza in qualche modo il problema del visitatore nobile di quello che ti dice sono bravissimo faccio tutto quando incroci degli osservanti con le interviste lo vedi bene perché tu guardi come scomporta la persona e poi gli chiedi delle cose e lo chiedi tutto bellissimo sì stupendo ah bellissimo stupendo due secondi in una sala dove non ho visto niente piuttosto che si aggirava palesemente affaticato a ricercare una singola quindi quando incroci le cose ti accorgi che c'è questo fenomeno esiste formulare le domande in modo che questa cosa sia il più possibile ridotta è il tuo corpito di ricercatore cioè farlo è in modo da mettere le condizioni in condizioni di persone di risponderti in modo onesto per cui una della mia poca esperienza della richiesta di compilazione di questionari al 90% tutti chiedono sempre ma è lungo? quanto dura? sempre la domanda che fanno tutti una delle cose una delle cose di progettazione eh vabbè la cosa la lunghezza poi ne parliamo però dovrebbe non essere mai più di 10 15 domande il questionario più di 10 domande 5 5 gli devi dire 5 fronte e retro se fronte e retro ma hai due fogli anche una questione di risparmio ma comunque se fronte e retro scrivendo sempre sotto segue se no vi trovate un terzo dei questionari vuoti dietro sempre no 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 le persone rispondono volentieri a pochi quesiti anzi può essere una strategia dell'indagine ovviamente che luce evitare per esempio un questionario a tre quesiti caldi principali diciamo su un maturale queste controproducenti sicuramente dipende da tutti i dati di risparmio il tasso di risposta si alza cioè il tasso di risposta è inversamente proporzionale all'occhezza del questionario quindi più breve e più risposte hai questo la via più breve è sempre la migliore il problema è che deve essere significativo se no comunque chiesto alle persone un impegno per quanto minimo ma non è tanto che niente quindi il difficile equilibrio sta lì questo è un'idea di risposta questo è un'idea di risposta questo è un'idea di risposta qualcuno invece però questo non ha cioè non è evidenza scientifica nel senso che ci sono quelli che si quelli che no tutte e due perché sto forzando a dire sì o no oppure cioè non riesce di dirmi beh in questi casi non gli dici sì o no prima di tutto c'è sempre il non so e poi nelle gradazioni delle scale di valore se usa questa roba quando hai un valore dai valore da 1 a 5 a quanto è importante questa cosa per te quanto sei d'accordo con questa affermazione o quanto sei soddisfatto di questo servizio o quanto sei soddisfatto delle seguenti robe che ti faccio vedere in elenco allora a quel punto lì ci sono le due scuole di pensiero però non c'è evidenza che su una cosa o l'altra se è un tema sensibile capace che uno si mette in mezzo ma se chiedi alle persone le cose di cui hanno competenza molto non sa dire se è più contento o no della caffetteria capito perché è una cosa sulla quale ha competenza cioè lo sa dirti se gli è piaciuto o no gli stai chiedendo un suo punto di vista e quindi questo effetto c'è meno su te i più compromettenti può essere più opportuno o che possono in qualche modo lasciare le persone più così può essere più opportuno invece obbligarli però comunque gli dai una scala cioè gli dici molto abbastanza non so in mezzo poco per niente comunque un esempio di domande doppie è questo ed è molto frequente se la guida è competente cortese da evitare perché tu non saprai mai se sei competente o cortese c'è un conto è sapere tutto un conto è essere gentili sono proprio due robe diverse quindi stare attenti a non metterle insieme anche perché tu non sai se devi lavorare sulla formazione personale front end che devi lavorare sulle sue capacità comunicative o sul fatto di studiare di più quello di cui sta occupandosi di mediazione quindi tu di questa domanda non te ne fai niente non sai a cosa hanno risposto le persone queste sono le domande ambigue e imprecise che includono il dove risiede so qua ma nel senso a Milano nessuno risiede a Milano ci vivono tutti ma non ci risiede nessuno e uno ti dice Santa Maria di Leuca però in realtà vive a Milano cinque anni per fare l'università lì quindi questa è una di quelle domande rischi di avere un'informazione sbagliata quello che a te interessa cos'è? sapere quanta strada ha fatto per venire da te se viene da lontano o se viene da vicino quindi ti interessa sapere dove abita queste sono con l'osservatorio culturale che Fizcarraldo gestisce è sede operativa dell'osservatorio quindi raccoglie dati statistici sui consumi e sulla produzione culturale in Piemonte da 15 anni ne abbiamo dovute fare di cose da sbagliare prima di arrivare a capire quali erano quelle giuste questo diciamo è un precipitato del buonsenso della letteratura e di quello che è capitato a noi a parte l'impaginazione questa è un'altra cosa che a me è capitato di vedere anche di recente in un questionario di un centro commerciale tra l'altro quindi per dire gente che dovrebbe saperla fare sta roba 0-1 cioè io ne ho fatto io ci sono stata una volta in quel posto dove la metto la mia crocetta ci sono stata tre volte non ci sono stata nessuna cioè cambia completamente e anche quelli che hanno l'accortezza di metterti nessuna però poi ti mettono 1-3-3-5 creano il problema che hai buttato via una domanda hai buttato via il tempo di chi ti rispondeva e tutto quanto non pensiate che queste cose non succedono succedono ma tanto succedono quindi sono piccole attenzioni che uno si tiene questo è un altro problema nelle gradazioni che siano a 3 che siano a 4 il problema qua lo vedete? vedete un problema? no ci sono due domande positive e una negativa sufficiente è vuol dire che comunque era abbastanza sufficiente e buono sono due domande positive e l'unica negativa è scarso cioè tu stai spingendo le persone gli stai dicendo capito? non sei non c'è più distanza tra il positivo e il negativo hai più probabilità di dirti una cosa positiva che di dirtene una negativa cioè quello sufficiente non è sempre vista come una cosa positiva perché non lo so è più sufficiente capito? il servizio era sufficiente sì cioè se tu mi dici che sono tutti buoni sufficienti sono più sufficienti e buoni pochi scarsi io comunque questa cosa non la posso dire se quello che mi sta all'offerta dei cibi la varietà dei cibi della mia caffetteria che offro insieme ai miei servizi culturali è positivo o negativa perché se tu mi dici sufficiente io non mi metto a lavorare sull'attenzione al prodotto alla varietà di prodotto di tipologia di prodotto perché è sufficiente quindi il fatto che uno questo è il tipo di corretto non fa in buona fede perché è sufficiente in qualche modo per noi è il voto di scuola non dà benissimo però se c'è la prima cosa lo so è quello capito? l'utilizzo delle scale queste sono molto utili se usate bene di solito le abbiamo usate un po' casaccio le scale sono quelle in cui appunto tu chiedi di attribuire un valore da tot a tot su un'affermazione con il quale uno deve essere più o meno d'accordo che deve valutare la scala Likert è una scala particolare che praticamente scorpora per esempio la soddisfazione in diversi item che siano coerenti con una stessa area omogenea ad esempio vabbè tu rispetto alle cose puoi essere completamente d'accordo d'accordo incerto in disaccordo in completo disaccordo poniamo rispetto ad un'affermazione il personale è stato accogliente non ho avuto difficoltà ad orientarmi sono completamente d'accordo d'accordo incerto in disaccordo in completo disaccordo così sei equidistante dai la stessa possibilità di darti una risposta positiva o negativa oppure nel caso della soddisfazione questo se prevalere come giudizio l'incerto che tipo di valutazione si può dare negativa sicuramente non è positiva esatto la scala Likert cosa ti permette di fare? di mettere insieme diverse affermazioni per cui se tu hai rispetto alla soddisfazione tu metti come quindi unico omogeneo la soddisfazione per l'esperienza di visita metti le singole frasi sono quelle che ti dicono che ti aiutano a capire dove sta il problema chiaro se uno ti mette tutto non so piuttosto che neutrale è un questionario nullo però in genere la gente te la dà volentieri un'opinione perché lui l'ha vissuta sulla sua pelle sta roba qua e quindi non c'è motivo per cui debba stare capito in mezzo non c'è niente di sconveniente tende più che altro a stare nelle robe intermedie abbastanza d'accordo o abbastanza in disaccordo capito sull'accordo e disaccordo e poco ad andare sugli estremi a meno che non sia molto insoddisfatto però in questo modo tu hai la soddisfazione complessiva che è un indice che puoi ricavare alla fine che puoi dare però tu che operi hai lo strumento per capire qual è la cosa che non gli è piaciuta o che gli è piaciuta o che gli è piaciuta tantissimo o pochissimo e quindi lavorare su quella roba lì sui tempi di attesa sulla cortesia sul fatto di prenotare online quanto è semplice quanto è no sul fatto dell'orientamento interno eccetera ci sono anche delle simili che si inseriscono nelle scale ad esempio per raccogliere più informazione rispetto a un prodotto la cortesia è una cortesia di come scrivere non è di essere quindi magari di per meccanisi esatto per meccanisi le cose che possono essere però anche in questo caso c'è da dire sì questo assolutamente si si può fare sempre cerchiamo di appesantirli il meno possibile c'è da dire che la cortesia degli addetti vero è che magari è che in miglietteria erano scordutici piuttosto gentilissimi e poi gli assistenti di salata non si fa toga non si toga non ci si siede non si fa niente quindi è possibile che ci sia questa questa cosa c'è anche da dire che la prima regola d'oro è non voler sapere tutto con l'unica salaria di pensare di avere tutte le informazioni che ci servono è impossibile quindi se ci si focalizza se ci vabbè adesso lavoriamo sulla customer experience lavoriamo sulla personale di front line allora quello che vogliamo capire è perché magari abbiamo appena cambiato cooperativa con cui lavoriamo che gestisce i servizi d'accoglienza sono in grado allora lavoriamo bene su questa cosa capiamo dove sono le debolezze e fai una batteria di domande specifica per quella roba lì per cui nei tuoi monitoraggi continui che ti fai durante l'anno che ti puoi fare una volta l'anno eccetera ci saranno delle domande che te le tieni sempre uguali così intanto il profilo provenienza un minimo ce l'hai e delle altre che cambia secondo il periodo di quelle delle cose che vuoi sapere specifiche ovviamente per ogni cosa che aggiungi ne togli un'altra però perché sennò dopo diventa quel papiro che nessuno ti compila gli atteggiamenti oggetto di indagine devono essere gli stessi cioè se tu chiedi anche non lo so cioè se tu gli stai chiedendo la soddisfazione su queste cose qua non puoi chiedergli domande diverse fargli domande di natura diversa perché poi dopo non ti vale più la scala l'ordine delle domande importante c'è un fenomeno molto tipico che si studia in psicologia il responset che è quello in cui se fai domande tutte lunghe uguali e metti si no si no si no proprio anche graficamente della stessa lunghezza uno ti risponde in fila sempre la stessa cosa ed è un fenomeno studiato nel senso che ci sono delle evidenze scientifiche in psicologia di questa roba qua cioè le vedi succedere per non spaventarli funzionano meglio le domande semplici all'inizio cioè non gli chiediamo i massimi sistemi in apertura se no idem per le domande delicate potenzialmente imbarazzanti o aperte che quindi comunque richiedono più fatica più commitment proprio dalla persona che fa più fatica a rispondere chiedere subito le informazioni che serviranno per dopo cioè se tu vuoi sapere cioè se uno ha già visitato quel museo sì no poi digli passa la domanda 5 no che mi costringi dopo a dire la prima volta che hai visitato rispetto all'altra volta che hai visitato il museo cioè no allora quante volte cioè se tu me lo chiedi dopo che questo se questo museo l'hai già visto più di una volta dopo avermi chiesto l'altra volta com'era io vado in confusione e soprattutto obbligo anche tutta quella metà per esempio che potrebbe saltarsi quel pezzo di questionario a farlo tutto e non ha nessun senso tutto questo serve ad aumentare il tasso di risposta e l'affidabilità delle risposte cioè tutti gli accorgimenti legati proprio alla tecnicalità dello strumento hanno un unico obiettivo raggiungere il numero massimo perché c'è una mortalità altissima e il tasso di risposta è a seconda c'è molta variabilità anche in questo però può essere anche molto basso nel caso per esempio di Brera un'altra storia noi avevamo più di 200 partecipanti alle visite e il tasso di risposta è stato del 99% perché erano tutti motivatissimi avevano tutti voglia di raccontare la loro esperienza era stata una cosa che li aveva coinvolti e quindi tutti ti rispondevano un questionario sulla profilazione annuale in un museo di una rete civica o provinciale il tasso è del 12 15 quindi rispetto al numero di questionari che gli metti lì te ne porti a casa parecchi di meno evitare di favorire orientamenti equilibrando bene i toni positivi negativi e formulando le domande in modo corretto il più possibile diciamo neutro o rispondere in serie appunto per cui se abbiamo delle domande proprio tutte lunghe uguali piuttosto alterniamole cambiamo la formulazione per farla diventare più lunga in modo che uno debba anche solo con la penna fare così e quindi non fare quella roba lì in fila le domande di tipo anagrafico non è vero che è preferibile inserirle alla fine del questionario all'inizio o alla fine sono domande facili quindi si mette lì a che vedere con quelli che non ti dicono volentieri l'età a che vedere se vuoi sapere per esempio invece la fascia di reddito meglio alla fine perché uno si indispone allora vabbè adesso praticamente è l'una possiamo poi fermarci al pomeriggio già chi di voi ha un un questionario che vorrebbe fare per esempio cos'è che voi vorreste sapere c'è qualcuno di voi che rispetto alla realtà in cui opera vorrebbe sapere delle cose ma già ti sei studiato un po' di queste cose prima di farlo hai cercato di evitare questi errori qua che sono quelli della letteratura di pronest se non è se non è la verità la verità la verità la verità la verità la verità guarda che tra poi mi dice domanda sì lo psicologo o sociologo c'è qualcuno che c'è la formazione che c'è la formazione è stata qua cioè abituato a fare domande alle persone quindi a sapere le quali le quali le risposte che vorrà ma le gradazioni c'è da quello strutturadissimo all'intervista libera c'è in mezzo l'infinita gradazione il grado di direttività dipende da quanto tu vuoi fare emergere cose che non presume c'è la differenza di quando assumi uno strumento con il questionario o per esempio la posizione domande aperte domande chiuse ecco l'ultima cosa domande aperte domande chiuse hanno delle implicazioni domande chiuse sono comode da analizzare comportano che tu abbia già presenti le variabili di un dato processo che vuoi analizzare cioè la comunicazione passa attraverso quei 5 10 canali lì non può essere arrivata per chi uno l'ha sognato di notte passa dai canali di comunicazione che hai usato tu i formali i formali possono essere google line piuttosto che cioè la comunicazione di quelli sono i canali maschi e femmina quelli sono capito certo esistono tutte le figure intermedie però diciamo si stavolette non arriva anzi e a seconda di quello che vuoi per esempio se fai un festival del cinema gay non puoi scrivere maschi e femmina nel questionario si ricavolano perché è pieno di tutte le figure intermedie cioè dove si mettono allineano sui sensibilità cioè riconoscere a quella particolare più di utenza è una roba per te un posto non dedicato un'offerta naturale non così dedicata possa esserci un margine di persone che hanno identità sessuali diverse di genere che si riconoscono diverse perché non è rilevante in quel contesto è rilevante che tu sai con chi stai operando cioè stai parlando della gente che può essere maschi può essere femmine può essere più finita di altre cose sì perché no parole è imbarazzante anche no cioè è imbarazzante vabbè sì no però se va fuori in quel festival diciamo che non è che tutto non è questo è così però per dire c'è una sciocchezza quel minimo di adattamento anche sulla roba più banale di loro però in generale le domande chiuse le usi quando conosci già i perimetri e le variabili di un fenomeno per cui le cose possono stare lì o là 5 10 3 variabili quelle sono quando non conosci tutte le variabili costibili che possono essere utili a descrivere quel sistema che stai esplorando o le variabili le conosci ma sono troppe per cui francamente chiede le persone di cercare tra 15 ipotesi allora forse è meno una domanda aperta più difficile da analizzare ma che ti permette più facilmente anche di capire se hai formulato male la domanda cosa che con le domande chiuse non hai perché uno mette la sua x e tu non sai se l'hai formulata male con una risposta aperta capisci se c'è qualcosa che non va perché capisci che ci sono interpretazioni diverse e quindi hai sbagliato a formulare perché non sei stato chiaro alle domande chiuse tendono a rispondere tutti alle domande aperte solo quelle con un livello culturale più elevato che si sentono più self confident e quindi si sentono più in grado autorizzate e capaci di esprimere un'opinione propria formulare un'opinione propria e quindi se devi pescare tra tutti rischi che se fai le domande aperte non ti rispondono quelli che non si sentono abbastanza sicuri di sé quindi con un livello di scolarizzazione più elevato una più intensa abitudine frequentazione comunque dei luoghi in cui ti si chiede come la pensi eccetera quindi bisogna tener conto di queste cose e anche di un bilanciamento delle due tenendo conto del fatto che poi dopo se le fai aperte ti tocca analizzare fare come minimo analisi semantica cioè e l'intervento del ricercatore con un pochino di esperienza su questa roba anche se non proprio del linguista in ogni caso ci va competenza e o esperienza meglio tutte e due con un pochino con un pochino con un pochino di esperienza di esperienza di esperienza Grazie a tutti